La fotografia d'arte vera e propria viene chiamata anche fotografia di ricerca e ha inizio in Italia verso la fine degli anni 60. Il punto di riferimento per i giovani fotografi e artisti dell'epoca era la Galleria Diafram di Milano. È in questo periodo che la ricerca fotografica in Italia raggiunge la sua massima espressione, mentre per le marche il riferimento era Senigallia, dove fotografi amatoriali, tra cui Cavalli, Giacomelli, cambieranno con le loro opere le prospettive fotografiche dell'arte. Su questi piani si è mossa da dieci anni a questa parte centrale fotografia, riconosciuta a livello nazionale come vero e proprio punto di riferimento. Sì, fa piacere perché noi sentivamo assolutamente la necessità di parlare di fotografia di ricerca, soprattutto in questa regione dove la tradizione è molto forte. Quindi davvero abbiamo una grande occasione di vedere alla Rocca Malatestiana una rassegna di circa 60 anni di fotografia italiana dove hanno cercato di esprimere davvero il loro punto di vista sul mondo. Per il decennale della manifestazione allestita quest'anno dal 7 al 10 giugno, nella ritrovata Rocca Malatestiana, il suo curatore Luca Panaro ha posto particolare attenzione alle opere esposte. Quest'anno invece tutti gli ospiti sono presenti in una grande mostra, 21 autori che ricordano appunto le ospitate avute negli anni precedenti e soprattutto che restituiscono dieci anni dopo quelle scelte che abbiamo fatto negli anni precedenti, ovvero autori che si sono sempre contraddistinti per una grande capacità nella ricerca fotografica. La conferma dell'importanza culturale della fotografia come veicolo di promozione territoriale in un contesto paesaggistico come quello marchigiano viene anche dal fatto che la Regione Marche ha stanziato fondi per supportare iniziative culturali come questo. Oggi poi sono molto contento anche perché appena qualche settimana fa come Regione Marche abbiamo presentato e approvato una legge che mira a valorizzare la cultura fotografica all'interno del nostro territorio regionale. Quindi per i prossimi anni siamo una delle poche Regioni a livello nazionale con una legge proprio dedicata alla cultura fotografica. Abbiamo messo una quantità di risorse, seppure limitata, però comunque importante che permetterà nei prossimi anni anche di sostenere concretamente non solamente questa iniziativa ma un po' tutte quelle iniziative ovviamente che verranno valutate e verranno considerate di qualità. Bene, questo è il programma di cui parlerà meglio Luca.